Abbiamo da poco dedicato un video all'umanesimo, un grande movimento culturale che coinvolse l'Italia prima e poi l'Europa a partire dal Trecento, ma oggi parliamo del suo seguito in un certo senso, del movimento che immediatamente dopo e a parte a tratti anche in contemporanea si aggiunse all'umanesimo, cioè parliamo del Rinascimento, che fu anch'esso un movimento culturale molto ampio, riguardò in particolare le arti soprattutto, ma poi si estese cambiando letteralmente la mentalità degli uomini del tempo o quantomeno degli intellettuali e ebbe delle pesanti ricadute sul piano filosofico, sul piano artistico, letterario, ma anche ovviamente più in generale sul piano storico. Oggi ne parliamo soprattutto dal punto di vista storico per cercare di capire come le nuove idee che si andarono formando tra il 400 e il 500, anche qui prima in Italia in buona misura e poi nel resto d'Europa, avrebbero cambiato la storia di questo continente. Andiamo a cominciare. Un sorso di caffè, come al solito, nella tazza con la scritta andiamo a cominciare che mi hanno regalato i miei ex studenti, come al solito, sempre per rimanere fedeli alla linea, come ci sono Topolino, Tostoi, Batman e Andrea il mostro peloso, io mi chiamo Ermanno Ferretti su internet, uso spesso anche il nickname di Scripp, sono un insegnante, un professore di storia e filosofia, insegno nel liceo scientifico di Rovigo e dal marzo del 2020, quindi ormai sono quasi due anni, andiamo verso i due anni, realizzo su questo canale YouTube delle video spiegazioni di storia e di filosofia, a volte anche dei podcast, che seguono più o meno quello che si fa alle superiori, ho iniziato proprio per rendere fruibile durante la didattica a distanza, durante la pandemia era Covid, le lezioni che normalmente facevo in classe e poi però il canale si è ampliato, oggi oltre alle cose che si fanno in classe o all'università ci sono anche approfondimenti, aperture, insomma c'è tanta roba, quindi se vi appassionano la storia e o la filosofia, date un'occhiata già in descrizione a questo video oppure nel canale dove trovate davvero centinaia e centinaia di video perché ne faccio praticamente uno al giorno, oggi parliamo come vi dicevo di rinascimento nell'ambito storico perché di rinascimento in realtà si può parlare sotto diversi punti di vista, l'abbiamo parlato anche in filosofia e in descrizione vi metto il link al video dove parlo del rinascimento con un attaglio principalmente filosofico perché chiaramente il rinascimento è stato movimento che ha investito pesantemente la filosofia dell'Italia, dell'Europa e del tempo ma oggi facciamo un'inquadratura più storica per cercare di capire che cosa fu dove arrivò. Intanto come vi dicevo anche nella premessa bisogna collegare necessariamente il rinascimento all'umanesimo a quel periodo storico immediatamente precedente, a quella fase culturale immediatamente precedente che a volte andò anche ad accavallarsi come vi dicevo col rinascimento che era partita nel 300 in Italia. In descrizione vi metto il link proprio al video che è dedicato all'umanesimo da un punto di vista storico. Quel movimento era contrassegnato da una nuova attenzione all'uomo, abbiamo detto da cui la parola umanesimo, ma soprattutto da una ritrovata attenzione verso la cultura antica, verso il sapere degli antichi, verso la letteratura greca e romana, verso la filosofia greca e romana e così via. Quindi durante l'umanesimo c'era stata proprio quasi una corsa a recuperare i vecchi testi, a recuperarli nell'originale, a tradurli quando erano in greco eccetera. Ora tutta questa ondata di interesse verso le vecchie idee portò anche a un rinnovamento delle idee e della cultura del tempo in Europa perché ovviamente quando si riscoprono Aristotele, ma l'Aristotele originale, Platone, Cicerone, Seneca e chi volete voi, chiunque altro vi venga in mente della cultura greca e latina, beh allora questa riscoperta dei classici ha un'influenza sul modo di fare arte, cultura, letteratura nell'età moderna, è inevitabile questo. In effetti nel 400, soprattutto a partire dal 400, si sviluppa di nuovo prima in Italia e poi nel resto d'Europa un nuovo movimento culturale che appunto prende il nome di Rinascimento. La città forse più importante da questo punto di vista la capitale del Rinascimento è probabilmente Firenze, proprio qui da noi in Italia e dato che non è sempre stato ai grandi artisti fiorentini dell'epoca, da Leonardo a Michelangelo, Donatello, chi volete voi anche qui, l'elenco sarebbe infinito. Avete ben presente che molti erano di Firenze o operarono almeno in parte a Firenze, poi anche altre città italiane ebbero un ruolo importante, anche altre città europee ebbero un ruolo importante, ma sicuramente Firenze è la gemma del Rinascimento mondiale. Ora, perché Rinascimento? Perché questo nome? Cosa significa? Intanto diciamo questo, molto spesso quando parliamo dei vari periodi storici o dei vari anche epoche artistiche, usiamo dei nomi che sono stati dati a posteriori, cioè, che so, il Medioevo, pensando in un'epoca storica importante, ampia, eccetera, gli uomini del Medioevo non dicevano loro stessi di essere uomini del Medioevo, non aveva avuto senso parlare di Medioevo durante il Medioevo. Così come, che ne so, gli uomini dell'età moderna non dicevano noi siamo uomini dell'età moderna, così gli uomini dell'età classica non dicevano noi siamo uomini dell'età classica. In genere queste etichette, queste classificazioni vengono fatte a posteriori, cioè secoli dopo si guarda al passato e si dice quella era l'età classica, quella era l'età medievale, eccetera. Quindi normalmente appunto questi nomi vengono dopo, ma nel caso del Rinascimento non è così, questa costituisce un'eccezione, perché la parola Rinascimento fu in realtà usata proprio dagli uomini di quel tempo, proprio dagli artisti del Rinascimento, perché questa è una cosa strana e bisogna anche capire perché loro si danno questa etichetta. Rinascimento vuol dire rinascita, nell'italiano un po' cinquecentesco e quattrocentesco, vuol dire rinascita, rinascita rispetto a cosa? Ecco, gli uomini di questo periodo si ritengono quelli che hanno recuperato la vera grande cultura del passato, la cultura classica appunto greco-romana che era andata, non dico perduta, ma in certa misura dimenticata durante il Medioevo. Allora gli uomini del Rinascimento che dicono noi ci rifacciamo agli antichi, riscopriamo la grande cultura, portiamo avanti una vera e propria rinascita delle arti e della cultura, dopo evidentemente un periodo in cui, secondo loro, le arti e la cultura avevano sostanzialmente addormito, si erano sopite, si erano addormentate. Infatti sono proprio gli uomini del Rinascimento, e poi saranno ancora di più gli uomini dell'Illuminismo, che arriverà un paio di secoli dopo, ma non molto dopo, a guardare al Medioevo, cioè all'età immediatamente precedente, come un'età di decadenza, un'età di passaggio, un'età anche oscura. Gli uomini del Rinascimento infatti guardavano al Medioevo come l'età di mezzo, la chiamavano proprio così, da qui deriva Medioevo, no, Medioevo vuol dire Evo, età di mezzo. Perché l'età di mezzo? Perché quasi la vedevano come una interruzione in un percorso culturale, storico, che altrimenti sarebbe stato graduale, dalla classicità, dal passato greco-romano all'età del Rinascimento, con questo buco in mezzo, questo momento di caduta, di passaggio costituito dal Medioevo. Quindi gli uomini del Rinascimento insistono proprio a presentarsi come uomini nuovi, uomini rinati, uomini che hanno saputo cogliere qualcosa di diverso e tendono a sottolineare gli elementi di differenza rispetto al passato. Oggi, bisogna dire anche questo, questa lettura che gli uomini del Rinascimento danno di loro stessi è stata in buona parte rivista, nel senso che è vero che il Rinascimento nel Quattrocento segna una svolta, è indubitabile questo, cioè basta guardare le arti, le arti effettivamente hanno un'accelerata, uno sviluppo rapido, veloce, importante, verso nuove direzioni. E questo poi si riflette sulla politica, si riflette sulla filosofia, si riflette su tanti campi, sulla scienza, pensate a quante scoperte arrivano effettivamente nel Cinquecento e poi nel Seicento. Segno di un nuovo interesse verso la natura, il mondo, eccetera, nuova anche mentalità. Ma è anche vero, e questi storici di oggi lo sottolineano, che questo cambiamento, questa accelerata non è una rottura netta rispetto all'epoca precedente. In realtà, la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna sono in buona misura in continuità. Quello che avviene nel Medioevo già a partire dalla svolta dell'anno 1000 e poi dal 1200 è un generale, una rinascita medievale. Già la fine del Medioevo può essere vista come l'anticipazione del Rinascimento, quel movimento che poi sarebbe culminato appunto nel Quattrocento. Già nel 200 e nel Trecento abbiamo grandi artisti, pensate a Giotto, pensate a Dante, pensate a Petrarca stesso. Insomma, letterari artisti che mettono, diciamo così, le basi di quello che poi sarebbe avvenuto nel Quattrocento. Quindi, dicono gli storici di oggi, non vediamo il Quattrocento come una svolta radicale, una rottura, finisce un'epoca e inizia un'altra completamente diversa, perché non è così, ovviamente. Piuttosto, il Quattrocento è il culmine di un percorso magari lento, magari graduale, ma iniziato almeno due secoli prima, se non tre secoli prima. Quindi il Quattrocento, certo, segna un cambiamento, una svolta, ma non è così netta come gli uomini del Rinascimento volevano farla sembrare. Segno che, come sempre nella storia, anche le cesure, i cambiamenti veloci, in realtà, sì, sono cambiamenti, ma mai così netti, mai così radicali. E, anzi, spesso sono gli uomini di quel tempo che vogliono farli sembrare più radicali di quanto non siano, perché vogliono, anche psicologicamente, differenziarsi dall'epoca precedente, mostrare quanto di nuovo hanno apportato. Questo per dire della parola Rinascimento. Ma in cosa consiste questo Rinascimento? Rinascimento vuol dire, proprio come vi dicevo, rinascita delle arti e poi della cultura. Ma, prima delle arti, effettivamente questo movimento si sviluppò proprio nella pittura, nell'architettura, nella scultura innanzitutto. E poi, a cascata, ebbe effetti su tantissime altre discipline. Vi ho detto, anche la scienza stessa fu coinvolta da un nuovo spirito che si doveva al rinnovamento artistico, ma anche la politica, ad esempio, la storia stessa, la filosofia in primo luogo. Insomma, tutti questi interessi artistici si riversarono e portarono a un nuovo modo di concepire il mondo, la natura, la realtà, che gli studiosi approfondirono. Baricentro, vi ho detto, fu Firenze. Firenze, soprattutto, prima nelle arti e poi non solo nelle arti. Per fare solo qualche nome, ma adesso provo a elencare qualche grande artista o grande letterato del tempo, ma sicuramente ne dimenticherò tantissimi altri, perché l'elenco sarebbe davvero lunghissimo. Però, citiamoli. Brunelleschi, ad esempio, a Firenze. La cupola di Brunelleschi, Masaccio, Donatello, Leonardo da Vinci, Michelangelo e chi altro ancora. Botticelli, ad esempio. Pensate agli Uffizi. Quando andate agli Uffizi trovate tutti i grandissimi esempi dell'arte fiorentina. Leon Battista Alberti, anche grandissimo architetto. Insomma, a Firenze operarono i più grandi nomi dell'epoca e forse di ogni epoca dal punto di vista artistico. Ma poi, se ci pensate, a Firenze operarono non solo gli artisti, anche i letterati, perché a Firenze abbiamo lo stesso Lorenzo il Magnifico, grande esponente della casata di Medici, di cui abbiamo parlato tante volte nei nostri video. Casomai, in descrizione vi metto un link storico su Lorenzo il Magnifico, su qualche sua operazione diplomatica importante, ma fu anche un grande poeta, no? Lo sapete, l'avete studia in letteratura normalmente. Ma poi, se ci pensate, anche Machiavelli. Machiavelli, grande letterato, grande politico, politologo, rinnovatore della scienza politica, oltre che storico, poi. Guicciardini, anche lui, ciorentino, anche lui interessato alla storia, alla politica. E' rinnovatore di queste discipline in maniera radicale, importantissima, e si studiano, non a caso, in letteratura italiana. Poi, anche dal punto di vista filosofico, Firenze fu un centro importante. Pensate a Pico della Mirandola, di cui abbiamo parlato in filosofia, c'è sempre il link in descrizione. Pensate a Mercilio Ficino, insomma, ce n'è davvero un'infinità di grandi uomini fiorentini. E poi, nell'ambito delle scienze, pensate a Galileo Galilei, che certo era Pisano, certo però moltissimo anche a Padova, ma poi si stabilì a Firenze, e a Firenze è un ruolo importantissimo. Cioè, abbiamo davvero, in questa fase tra 400-500, e poi addirittura anche inizio 600, davvero Firenze è il baricentro della cultura mondiale. Ma non c'è solo Firenze, bisogna dire anche questo, io ho assistito molto su questa città, perché è forse quella che più racchiude grandi nomi. Ma ce ne sono tante nel nord Italia che in questa fase storica hanno un ruolo importante. Un'altra importante, ad esempio, è Mantua, la Mantua dei Gonzaga, dei signori Gonzaga, che è ospita, per dire, Vittorino Raffaele, di cui abbiamo parlato proprio nel video dedicato all'umanesimo, che rinnova la pedagogia. Lo trovate anche lui in descrizione, c'è Mantegna, ad esempio, a Mantua, che opera. Ma poi molto vicino, quasi confinante con Mantua, c'è Ferrara, ad esempio, la Ferrara degli Estensi. Ferrara è importantissima perché ci sono Ariosto e Tasso, per dirne due grandi letterati italiani, l'Orlando Furioso, la Gerusalemme Liberata, anche questi pezzi del 90 della nostra cultura e della nostra letteratura. Ma poi pensate anche a Urbino, ad esempio, dove ci sono i Montefeltro, dove nasce Raffaello, che poi si trova a operare anche in altre città, ovviamente opera molto anche a Roma. Raffaello, pittore a cui noi che facciamo storia, ma anche filosofia, siamo notevolmente affezionati per quel famosissimo affresco che è la Scuola di Atene, conservata ai Musei Vaticani, che è l'emblema dell'attenzione del Rinascimento verso la filosofia classica, perché ci sono i grandi filosofi greci, Aristotele e Platone al centro, avete presente con Platone che indica in alto e Aristotele che tiene la mano in avanti verso questa terra, e poi tutti i grandi filosofi dell'antichità, seduti a discorrere e a discutere. Segno di come, appunto, gli uomini del Rinascimento guardassero alla saggezza antica, alla saggezza classica come un modello di riferimento. E tra l'altro questo Scuola di Atene è nelle Stanze Vaticane, è nei Musei Vaticani, nelle Stanze dei Papi, che nel percorso che poi quando visitati i Musei Vaticani culmina nella Cappella Sistina, altro capolavoro del Rinascimento di Michelangelo, ovviamente. Quindi, tante città, Mantua, Ferrara, Urbino, Firenze, e poi ce ne sarebbero tante altre, anche Venezia ha un ruolo importante, anche Milano ha un ruolo fiorentino, opera a lungo a Milano, il Cenacolo, per fare un esempio molto famoso. Ma poi, ovviamente, bisogna menzionare, per chiudere questa panoramica sulle città italiane del Rinascimento, sicuramente anche Roma. Roma non tanto perché diei Natali a grandi personaggi, perché, in fondo, gli artisti sono proprio fiorentini o di queste altre zone che abbiamo citato, ma soprattutto Roma perché attira artisti, perché a Roma ci sono i papi, e il papato, in questa fase tra 400 e 500, vede il suo momento di massimo splendore, non tanto dal punto di vista spirituale, forse, lì se ne può discutere, e abbiamo parlato tante volte della riforma luterana, che proprio è fortemente critica nei confronti del papato dal punto di vista spirituale, ma sicuramente il momento di massimo splendore dal punto di vista artistico, culturale, politico, di mecenatissimo proprio, perché i papi di questa fase si attorniano di grandissimi artisti, di grandi letterati, ma soprattutto artisti, e abbelliscono i palazzi vaticani, la stessa Basilica di San Pietro viene edificata in questi anni, in questo periodo, e poi tutti i palazzi vaticani abbelliti di straordinarie opere d'arte, che oggi si possono in parte vedere tramite i musei vaticani, appunto, che sono una delle gemme della penisola italiana, anche se appartengono alla chiesa, e quindi allo stato della chiesa, dove ci sono straordinarie opere d'arte, appunto Michelangelo, Raffaello, li abbiamo già citati, ma poi tantissimi altri. Segno del forte legame tra rinascimento Italia, sicuramente, della forte influenza che questi artisti italiani riescono a poi riversare sulla cultura italiana, perché vengono pagati, vengono assunti dai grandi uomini politici, che fanno da mecenati, dai medici da una parte, dai vioretto in Montefentro, gli Estensi, Gonzaga, eccetera, ma poi soprattutto anche dal papato. Ma perché proprio in Italia questo movimento ebbe così grande successo? Perché in fondo sono poi città soprattutto del centro nord, o meglio del nord, vi ho detto Roma, è coinvolta, ma non direttamente magari più che altro perché attira artisti che vengono dal nord. E perché proprio città del centro nord e non del sud, oppure, o misura minore del sud, oppure non della Francia, della Germania, dell'Inghilterra? Perché? Allora anche qui gli storici sono posti, ovviamente questa domanda, cercano di capire le cause che hanno portato proprio in questa fase storica all'emergere di forme artistiche, letterarie, filosofiche nuove. La risposta che hanno dato è molteplici, ovviamente. In primo luogo sicuramente un'influenza importante da scrivere all'umanesimo, l'abbiamo detto fin dall'inizio. L'umanesimo era nato in Italia, si era sviluppato in Italia grazie prima a Petrarca e poi tutta una serie di altri studiosi e chiaramente la riscoperta di testi classici favoriva il porsi nuove domande, il cercare nuove metodologie dal punto di vista letterario, politico, ma anche artistico. In fondo in questa fase c'è il dominio, ad esempio, in arte della prospettiva. La prospettiva è certo una nuova tecnica per realizzare quadri e pitture, ma è anche una riscoperta più razionale del mondo. La prospettiva è un'applicazione di regole, direi matematico-geometriche, alla rappresentazione della realtà. Ora, per pensare anche solo a un mondo prospettico e a una rappresentazione prospettica e a lavorare in quella direzione, bisogna, in un certo senso, cercare l'ordine e il rigore tipici della geometria. Non a caso anche in filosofia, da Cartesio in poi, ma anche da Galileo in poi, Galileo, Cartesio, Spinoza, eccetera, c'è in tutta Europa una riscoperta della geometria, dell'ordine, del rigore della geometria. Un ordine e un rigore che, certo, non è che si fossero scorrati completamente durante il Medioevo, ma che erano tipici del ragionamento degli antichi, gli elementi di Euclide, per fare un esempio, il pitagorismo per fare un altro esempio, il platonismo per fare un ulteriore esempio. Ecco, questo rigore, certo, lo si trova, prima di tutto, grazie ai testi degli umanisti che trarucono, che riscoprono, che riportano l'attenzione, ad esempio i testi di Platone, che hanno una precisa influenza, ad esempio le dottrine pitagoriche che hanno una precisa influenza, Democrito in parte addirittura, e anche lui ha una precisa influenza su tutto ciò. Segno che, proprio laddove l'umanesimo aveva iniziato a lavorare già da qualche decennio, allora le nuove idee, le nuove tecniche, le nuove forme d'arte hanno gioco facile ad imporsi, fanno meno fatica anche altrove, e quindi sicuramente l'umanesimo è un fattore da tenere presente, il fatto che poi l'umanesimo italiano fosse così sviluppato e così forte. Un secondo fattore è la natura di queste città di cui abbiamo parlato, Firenze, Urbino, Mantua, Ferrara, in parte Milano, Venezia stessa, perché? Perché queste ormai erano signorie, quando nasce il rinascimento, quindi tra 400 e 500, queste città sono vere e proprie signorie, le famiglie che abbiamo citato sono le più importanti famose famiglie di signorie italiane, non sono più comuni, lo erano stati, magari mantengono a volte la forma formale, le istituzioni comunali, ma sono ormai diventate signorie in tutto e per tutto. Però appunto le signorie sono sorte dai comuni, prima erano comuni, fino a poco tempo prima erano comuni e in parte mantengono viva la storia della loro età comunale, anche il prestigio, anche le libertà e i diritti dell'età comunale. Durante l'età comunale erano repubbliche queste, città-stato, un po' simili per certi versi, anche se con ovviamente anche molte differenze alle poleis greche, città che si autogovernavano, città in cui c'erano forme, non dico di democrazia che è sicuramente troppo, ma di repubblicanesimo, in cui alcune classi sociali partecipavano alla vita politica e c'era quindi anche libertà di parola, di pensiero, di sperimentazione, sempre tra virgolette, nel senso che non dobbiamo pensare alle libertà a cui siamo abituati oggi perché non era così, erano libertà riservate a piccoli gruppi e poi limitate a certi ambiti, però sicuramente per l'Europa del tempo le città italiane erano quelle più aperte, erano quelle in cui c'erano maggiori libertà, erano quelle in cui c'erano maggiori spazi per sperimentare qualcosa di nuovo, per porsi domande nuove, per essere tra virgolette eretici, molto tra virgolette perché poi non era raro che se si era davvero troppo eretici si finisse al rogo, pensate a Savonarola per fare un esempio, vi metto il link in descrizione se volete approfondire, però un po' di spazio c'era, almeno paragonato a quanto accadeva in Francia, in Inghilterra, in Germania, un po' di spazio c'era e questo chiaramente favorisce nella mentalità italiana del tempo di questi cittadini, di queste città, almeno dei cittadini che godono di queste parziali libertà, favorisce la voglia di provare e sperimentare, non ci sono regole troppo rigide in campo artistico ma poi neppure in campo politico, si può provare a pensare a mondi diversi, nascono le utopie, per la verità il termine nasce in Inghilterra ma poi pensate a Campanella, Giordano Bruno che poi per carità fanno una brutta fine tutti e due, però almeno ci provano, almeno hanno spazio per qualche tempo per provare a esporsi, poi arriva lo spirito controriformistico ma arriverà dalla metà del Cinquecento in poi che stringerà la vita, che stringerà le libertà, le limiterà molto, però fino alla metà del Cinquecento c'è un po' di spazio e questo favorisce ovviamente, ripeto, la sperimentazione, il provare a fare cose nuove, il mettersi in discussione che è uno degli elementi cardine poi della mentalità rinascimentale. Quindi sicuramente, ripetiamo, umanesimo, sicuramente le basi comunali, la storia comunale delle libertà comunali di queste città. Terzo elemento importante, sicuramente queste città che erano comuni adesso sono diventate signorie e quindi c'è il potere in ognuna di queste città una famiglia che vuole anche mostrarsi forte, prestigioso e importante. Magari è una famiglia che salete al potere anche da poco e quindi è disposta a spendere soldi per garantirsi un certo lustro. Queste corti rinascimentali sono corti in cui magari appunto il signore è signore di una piccola città, di una provincia, ma è disposto a spendere molto per mostrare la gloria, la fama e la dignità della propria corte. E quindi pensate agli estensi che finanziano Ariosto e Tasso, pensate ai Gonzaga, pensate a tutti i medici, più di tutti ancora, che finanziano grandi artisti con opere di mecenatismo, cioè li mantengono pur che questi grandi artisti, questi grandi letterati forniscano grandi opere d'arte che servono a dar lustro e prestigio alla casa regnante, alla signoria. Ultimo, ma non ultimo fattore, queste città, pensate a Firenze in particolare, erano stati grandi centri artigianali già nell'età precedente, nel 200, nel 300, ma anche nel 1100. Firenze in particolare abbiamo parlato molto spesso delle arti delle corporazioni e delle botteghe. Ecco, i grandi artisti, soprattutto gli artisti pittori, scultori, eccetera, muovono i loro primi passi soprattutto all'interno delle botteghe inizialmente. Il fatto che a Firenze, ad esempio, siano artigiani molto preparati favorisce anche la crescita artistica. È chiaro che l'artista non è un semplice artigiano, è un artigiano che aggiunge una certa creatività, un certo nuovo stile, una certa apertura, però la tecnica spesso la si può apprendere dalle botteghe artigiani, artigianali. Ad esempio c'erano quei pintori, quelli che creavano i colori a Firenze per colorare le vesti. Ecco, in quelle capacità tecniche degli artigiani che coloravano le vesti fiorentine si può imparare a costruire i colori che poi servono agli artisti per innovare la pittura. Oppure, che so, ci sono anche gli scultori, botteghe di scultori, beh lì uno si può formare, può imparare la tecnica e poi creando in modo più innovativo può diventare veramente artista. Ecco, le capacità tecniche sviluppate dagli artigiani, soprattutto fiorentini, ma non solo fiorentini, favoriscono poi il sorgere di un'arte nuova, di un'arte rinnovata. Questo discorso ci permette anche di cercare di capire a quali classi sociali appartenevano questi artisti e quanto pesavano poi sulla società del tempo. Perché finora abbiamo parlato di grandi artisti, abbiamo citato tanti nomi, letterati, filosofi e così via, ma non dobbiamo neppure pensare che fossero tutti come loro. Nel senso che alla fine i grandi intellettuali rinascimentali, i grandi artisti rinascimentali nel 400, nel 500, in tutta Italia erano poche centinaia. Qualche, non so, facciamola grande, 1000, 2000, 3000, siamo su quest'ordine di misura. Mentre la popolazione italiana contava all'epoca circa 10 milioni di abitanti, perché l'Italia era abbastanza popolosa rispetto al resto d'Europa. Chiaramente poche migliaia di persone rispetto a 10 milioni di abitanti, capite che stiamo parlando di un nucleo molto ristretto di persone che possiamo rifinire artisti e uomini rinascimentali. Stiamo parlando di una stretta elite, un'elite creativa, se vogliamo chiamarla così, di artisti illetterati che pochi però hanno lasciato il segno in maniera profonda. Quindi, prima cosa, non dobbiamo pensare che in realtà il pensiero, il sentimento rinascimentale fosse diffuso ovunque. La stragrande maggioranza della popolazione italiana continuava a vivere come aveva vissuto fino a pochi decenni prima, come viveva nel Medioevo, erano contadini analfabeti che non sapevano nulla di pittura, nulla di scultura, nulla di letteratura, nulla di filosofia. La stragrande maggioranza, vuol dire il 99 e passa per cento della popolazione, non conosceva nulla del rinascimento e non era protagonista né viveva gli effetti del rinascimento. Pochi erano quelli di cui stiamo parlando, però questi pochi effettivamente lasciarono il segno, perché un po' alla volta la mentalità iniziò a cambiare e portò novità a cambiamenti nel modo di gestire lo Stato, nel modo di dipingere e fare scultura, eccetera, nel modo di organizzare anche il potere, nel modo poi anche di celebrare i fasti, nel modo poi di fare scienza, perché vi ho detto, alla fine tutto questo ha un effetto anche sull'approccio scientifico, da Copernico in poi, e arriva la rivoluzione scientifica che è in buona misura figlia anche di questa nuova mentalità. Quindi intanto bisogna capire che stiamo parlando di poche persone, ma da dove venivano queste poche persone? Allora bisogna distinguere in realtà, perché artisti e letterati li ho messi insieme fino ad adesso, ma in realtà provenivano spesso, almeno in Italia, da ceti sociali un po' diversi tra loro. Gli artisti veri e propri, cioè i pittori, gli scultori, gli architetti, molto spesso si erano formati all'interno delle botteghe, come vi dicevo prima, quindi il ceto di riferimento era quello di bottegai. La maggior parte di questi pittori, poi c'è anche qualche pittore che proviene dalla nobiltà, qualcuno che proviene da altre classi sociali, ma la maggior parte di questi artisti hanno una provenienza artigianale, provengono dalle classi degli artigiani, poi si specializzano, migliorano, eccetera, però effettivamente vanno oltre la loro provenienza. Quindi artigiani soprattutto, mentre i letterati, quindi quelli che fanno come Machiavelli, Guicciardini, eccetera, o poi i filosofi, gli scienziati, eccetera, molto spesso provengono da altre classi, o provengono dalla nobiltà, quindi sono nobili che magari si sono sempre interessati all'arte, alla letteratura e adesso si dedicano anche alla filosofia, alla scrittura, oppure provengono dalle classi mercantili soprattutto, sono borghesi che però non hanno mai lavorato specificamente con le mani nelle botteghe, ma sono soprattutto occupati di svendere, di comprare, di smerciare, di viaggiare, proprio anche viaggiando le loro famiglie hanno accumulato una certa conoscenza, una certa capacità, una certa esperienza che poi riversano anche nel lavoro. Bisogna anche dire un'ultima cosa, quasi nessuno di questi grandi artisti, questi grandi letterati è un uomo di chiesa, cosa importantissima da sottolineare, perché fino al Medioevo in realtà la cultura era stata in mano agli uomini di chiesa, se pensate anche solo ai filosofi medievali, quali sono, anche della fine del Medioevo intendo, Santo Maso d'Aquino, un santo, un frate dominicano, pensate a Guglielmo di Ockham per dire, anche lui un frate, pensate a Anselmo d'Aosta, anche lui un frate, insomma tutti i grandi uomini intellettuali del Medioevo erano stati per lo più uomini di chiesa, poi c'era stata qualche eccezione, Petrarca ad esempio, Dante stesso, qualche eccezione c'era ovviamente, però le eccezioni arrivano soprattutto nel Trecento, arrivano soprattutto verso la fine del Medioevo e comunque non sono la grande maggioranza, pensate anche in letteratura si studiano Jacopone da Todi, San Francesco, capite di cosa sto parlando. Dal rinascimento in poi gli uomini di chiesa vengono messi abbastanza ai margini, certo c'è ancora qualcuno, non sono tutti laici, però la cultura si laicizza molto e la chiesa diventa da produttrice, diventa per lo più committente, cioè diventa quell'organizzazione che non produce di per sé le grandi opere d'arte o le grandi opere letterarie, ma paga artisti laici per produrre le grandi opere d'arte, pensate ripeto alla Cappella Sistina, ai Musei Vaticani e Compagnia Bella. Quindi cambia anche il ruolo della chiesa che nel più protagonista diretta è protagonista solo perché finanze altri, chiaramente se a fare cultura, a fare arte sono per lo più i laici e allora avranno un approccio più laico inevitabilmente a quello che studiano, a quello che producono. E questi artisti che appunto provenivano da queste classi sociali che fama avevano, erano rispettati, erano amati, erano soprattutto godevano a livello sociale del loro lavoro, erano rispettati oppure no? E qui sì e no diciamo, nel senso che all'inizio e soprattutto nelle prime fasi del Rinascimento gli artisti venivano visti ancora come artigiani per lo più, proprio per via del fatto che provenivano da ceti artigianali, venivano visti come artigiani un po' più bravi della media, quindi generalmente non godevano di un particolare status, non erano come poi gli artisti saranno considerati nei secoli successivi, erano visti come dei professionalisti, dei tecnici, ma visto che lavoravano con le mani, visto che facevano lavori manuali, il loro rango era abbastanza medio-basso diciamo, non era particolarmente pregiato perché chi lavorava con le mani non era degno di troppa considerazione. Questo soprattutto all'inizio, poi le cose iniziano un po' a cambiare, soprattutto perché alcuni grandi artisti, grandi nomi iniziano a farsi pagare molto per le loro opere che iniziano ad essere molto amate e quindi lo status migliora gradualmente, addirittura alcuni artisti arriveranno anche ad avere dei titoli nobiliari, a ricevere dei titoli nobiliari per ricompensarli del loro sforzo, delle loro capacità, ma è un percorso anche questo che parte da una considerazione abbastanza contenuta e poi va crescendo lungo i secoli. Ma proprio parlando di considerazione di artisti, conviene fare un'ultima postilla a tutto questo discorso riguardante le donne. Come vivono le donne? Perché vi ho fatto tanti nomi prima, Brunelleschi, Michelangelo, Masaccio eccetera, tutti uomini vi ho citato. E le donne che ruolo hanno? Ci sono donne artiste? Ci sono donne nel Rinascimento? Allora in parte sì, qualche nome c'è effettivamente, qualche donna che si fa notare c'è e soprattutto gli studi più recenti hanno riportato alla luce il contributo di alcune grandi donne artiste, ad esempio che so Vittoria Colonna nel campo della poesia oppure Artemisia Gentileschi nel campo della pittura, sono artiste che sono state proprio riscoperte negli ultimi decenni e che godono anche di una certa considerazione perché hanno a volte anche una storia particolare, pensate a quella di Artemisia Gentileschi, un giorno magari faremo un video dedicato a lei e alla sua storia perché fu anche un primo caso quasi di femminismo anteliteram e quindi è interessante da studiare e da capire. Però non bisogna neppure valutare troppo questo contributo femminile, nel senso che certo qualche donna degna di nota ci fu riuscì a emergere, ma erano estreme minoranze, erano più eccezioni che regole, non bisogna pensare che il nascimento fosse aperto alle donne, in realtà era molto difficile per le donne emergere e quelle poche donne che riuscirono ad emergere lo fecero al costo di grandissime e enormi fatiche. La stessa istruzione non era praticamente mai pensata per le donne, era sempre solo riservata per gli uomini e anche la formazione letteraria e artistica era riservata agli uomini. Quelle poche donne che riuscirono ad emergere, spesso riuscirono ad emergere perché i padri, i genitori, i maschi padri, avevano particolarmente le loro figlie e quindi riservavano a loro un'educazione privata degna di quella che veniva riservata agli uomini, ma bisognava proprio che ci fosse un padre illuminato, voglio dire, per consentire alla figlia di istruirci e quindi poi magari di provare a diventare artista, diventare scrittrice, diventare donna del rinascimento. Altrimenti se non c'era questa mentalità un po' più aperta della media, per le donne non c'erano possibilità. Quindi sicuramente ci sono alcune donne che vale la pena citare, alcune donne importanti in questo rinascimento, ma non bisogna pensare che la condizione della donna fosse poi così tanto mutata rispetto al medioevo. La condizione della donna rimane una condizione di sottomissione e lo rimarrà ancora a lungo per come è impostata la società, per come è impostata la mentalità del tempo. Vi ho detto di donne artiste bisogna citare almeno anche una donna in campo politico, Lucrezia Borgia, figlia del papa di Roderigo Borgia, Alessandro VI, grande e famigerato anche per certi versi uomo politico del tempo, uno dei papi più famosi nel bene e nel male perché finanziò grandi opere artistiche ma fu anche un papa, tra virgolette, corrotto. Non solo il padre di Lucrezia Borgia ma il padre anche di Cesare Borgia, ricorderete proprio nel Principe dei Machiavelli il suo ruolo. e questa Lucrezia Borgia fu però una donna capace, per molti secoli anche la sua figura è stata vituperata e attaccata, tanto è vero che il proprio nome di Lucrezia Borgia per molto tempo è stato sinonimo di sotterfugi, di una donna senza scrupoli. In realtà Lucrezia Borgia era una donna intelligente, anche a lei magari un giorno le dedicheremo un video apposito, una donna anche un po' vittima del suo tempo e della scarsa considerazione che era riservata alle donne, ma fu una grande donna nel suo tempo, anche se poi non ebbe una vita particolarmente lunga, anzi, segno che per qualche donna c'era spazio per emergere però uno spazio difficile da conquistare, uno spazio poi riservato ad estreme minoranze e bisogna tenere presente che quindi questo rinascimento fu certo un movimento importante un movimento innovativo, ma fu riservato a piccole minoranze, a vere e proprie elite di pochi uomini, privilegiati per certi versi, che magari avevano avuto origini in classi non sempre forti, ma che riuscirono con le loro capacità a emergere. Gli altri furono sostanzialmente esclusi o fecero molta fatica a essere inclusi in questa elite. Ecco, questo grosso amore è quello che secondo me c'era da dire per presentare storicamente il rinascimento. Poi ci sono altri approfondimenti da fare, c'è da parlare anche ad esempio del ruolo della stampa, ma su quello abbiamo già fatto un video che vi linko in descrizione sul ruolo delle città, delle università, magari appunto, oppure su queste donne che abbiamo citato, Artemisia Tentileschi, Lucrezia Borgia, a cui magari dedicheremo in futuro anche qualche approfondimento, ma per inquadrare la situazione mi sembra che questo possa bastare. Vi ricordo che in descrizione trovate i titoletti che sono comparsi qui mentre spiegavo in modo da poter riscoltare un pezzo oppure un altro della spiegazione e trovate anche i link a tutti i video che ho citato, non citate i vari, e poi alle playlist principali. Infine, sempre in descrizione trovate anche i link ai social network, se volete seguirmi e rimanere informati su quello che faccio, e poi anche il link per iscrivervi al newsletter settimanale, gratuita ovviamente, è una newsletter che mando in genere il lunedì sera, a volte a terra sera, in cui racconto quello che ho letto, quello che ho visto, qualche riflessione sui nostri tempi contemporanei, poi parlo anche dei video che ho fatto e dei podcast che ho registrato, così se volete rimanere informati su tutto quello che viene pubblicato di settimana in settimana, lì c'è il modo di farlo. Basta, ho finito, ci vediamo presto per nuovi altri video di storia, filosofia e anche educazione civica. Ciao, alla prossima!